Campionato di seconda categoria girone C. Al bracca di Torgiano i padroni di casa nella classica divisa giallo-blu affrontano i giovani europei in maglia arancio e pantaloncini neri. Partita che si apre all'undicesimo con il Torgiano subito in vantaggio. Disimpegno errata d'opera dei due centrali a Polloni e Trabalza. Ne approfitta allora Rossi che ruba palla, entra in area e batte Laurenti in uscita. 1-0. Al ventesimo è sempre Rossi a cercare la conclusione dal limite, palla che termina fuori. Insistono i padroni di casa con le conclusioni dalla distanza ma la mira è imprecisa. Sul fine del primo tempo si portano in avanti anche i giovani europei. Cross dalla sinistra, interviene Schippa di testa, la palla però finisce tra piedi dell'attaccante che spreca in malo modo. Al quarantaquattresimo minuto, occasione Torgiano, Rossi da calcio piazzato, traiettoria troppo chiusa e palla sul fondo. Nel secondo tempo la regia del match non cambia, è sempre il Torgiano in avanti alla ricerca del raddoppio. Al sesto minuto Bella chiusura di Apolloni su Rossi, che così impedisce il tiro del numero 9. Al diciassettesimo, cross dalla destra sempre di Rossi, Mazzoni riesce ad anticipare Laurenti in uscita. Poi Bicarelli di testa, spreca porta vuota. Grande occasione mancata. Un minuto più tardi sono i giovani europei a portarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Bravo Carnevale a deviare in angolo questa conclusione da dentro l'area. Al ventudesimo minuto, corresi da punizione, pesca Taschini tutto solo in area di rigore, Laurenti si oppone e devia in corner. Al trentaduesimo, ospita ancora in avanti. Il tiro di partenza è però debole e l'estremo difensore controlla senza problemi. Insista allora il Torgiano, che vuole riportarsi sul 2-0 e richiudere definitivamente la partita, ma non riesce a trovare la conclusione vincente. Al quarantaduesimo, doppio giallo di espulsione per partenzi, che lascia i giovani europei in dieci uomini. Ultimi minuti dell'incontro ed ultima occasione Torgiano. Maggio Nami penetra centralmente in area di rigore e batte l'estremo difensore per il 2-0 finale. La partita di oggi è stata abbastanza sotto controllo dal punto di vista sportivo. Giocavamo con il fanalino di coda giovani europei. Inizialmente sono partite un po' delicate perché quando si gioca con una squadra che ha meno punti magari si sottovaluta l'avversario. Invece i ragazzi sono stati bravi, hanno affrontato subito l'avversario con la dovuta concentrazione. Un gol per tempo, classico risultato. Abbiamo rischiato soltanto sull'1-0 con una parata di carnevali, però è stato tutto sommato sotto controllo. Una squadra nostra, ci tengo a dire che fino al 24 di agosto eravamo inesistenti. Non abbiamo potuto partecipare alla prima di campionato perché non eravamo ancora costituiti. Le partite di Coppa non le abbiamo fatte. Quindi un plauso molto di cuore a questi ragazzi che senza preparazione hanno affrontato un campionato e con la giusta concentrazione, il giusto attaccamento ai cosiddetti colori di Torgiano. Stiamo a metà classifica con ottimi risultati secondo noi rispetto a quello che ci prefiggevamo di avere perché ripeto, in zero preparazione quindi era in difficoltà, era molto in salita. Sì, dicevo sulla partita, una partita che affrontevamo l'avversario magari con un po' di difficoltà però l'approccio alla partita è stato importante. Abbiamo vinto una partita per la classifica fondamentale perché comunque noi è stata una partenza un po' difficile grazie al supporto della società, dell'impegno per creare un gruppo, per cercare di far bene nel futuro. Questo è quello che...